E' vissuta anche un po' tutta la storia che ha portato a questa chiesa? E' vissuta di dentro e di fuori, perché chiaramente non è stato semplice, è stato molto lungo, pensiamo soltanto che sono passato 11 anni dalla posa della prima pietra, ma prima di quella c'è stato un iter lunghissimo in parocchia per le posizioni, un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, alla fine non andava bene neppure uno e alla fine, grazie al vescovo di allora, Careggio, aveva preso questa grande decisione dell'acquisizione di quest'area e poi da lì è partito tutto l'Ambaradà, che è stato un vero Ambaradà. E' contento di questo traguardo? Beh, sicuramente sì. Finalmente, dopo tanti anni, abbiamo la nuova chiesa, siamo molto contenti, ci dispiace solo tante polemiche che hanno fatto, ma speriamo che svaniscono nel nulla. Organizzate anche uno spettacolo pirotecnico proprio per il giorno della festa di Sant'Anna? Non solo, ma noi abbiamo organizzato l'illuminazione, abbiamo fatto a noi, noi, la ditta, ma siamo noi. I fiori nell'antica chiesetta li dobbiamo noi, perché l'antica chiesetta è praticamente la nostra capellina di Sant'Anna. E in più ci dedichiamo anche alla processione. L'abbiamo sempre sentito nominare questa chiesa, abbiamo posato la prima pietra, poi il vuoto, e quindi per tanto tempo se ne è sentito parlare, però non si... Cioè, il momento di oggi è sempre stato atteso, ma la concretezza non c'è mai stata poi, nel senso, oggi riusciamo a realizzare pienamente che abbiamo una nuova chiesa, insomma. Qual è l'importanza di avere finalmente una chiesa per questa comunità parrocchiale? Beh, sicuramente è un punto di riferimento importante, sia per noi giovani, ma per tutta la comunità, non avendo mai avuto poi una struttura, diciamo, che potesse definirsi tale, anche se poi la chiesa comunque non è la struttura, ma le persone, insomma, che ci sono dentro. Ecco.